Parla tifoso dell'Azzurra. Il nostro amato Napoli cerca sempre di migliorarsi per portare a voi, tifosi appassionati, i migliori risultati e traguardi. Oggi abbiamo notizie interessanti su un possibile nuovo rinforzo per il nostro attacco. Prima di iniziare lascia il tuo mi piace, iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere nessuna novità. Scopriamo insieme questa esclusiva novità. Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna continua a lavorare instancabilmente per rafforzare la nostra squadra. Secondo le informazioni di tutto mercato web, Manna ha aggiunto un altro nome alla lista dei suoi obiettivi. L'attaccante francese Desire 2, attualmente al Rennes. Il Napoli non ha ancora fatto una mossa offensiva concreta perché attende la cessione di Victor Osimann. Ad oggi non è arrivata nessuna offerta che soddisfi il club. Tuttavia, il lavoro dietro le quinte continua ad essere intenso. Oltre ai già citati Romelu Lukaku e Artem Dobic, ora appare il nome di 2 come una promettente opzione. Desire 2, classe 2005, è una giovane promessa che si mette in luce al Rennes. Il club francese ha grandi pretese e valorizza i suoi giovani talenti almeno 30 milioni di euro, bonus esclusi. Nonostante il prezzo elevato, il Napoli non si scoraggia. Piquet 2 rientra perfettamente nei parametri societari del club, giovane, con grandi potenzialità di crescita e la possibilità di generare importanti plusvalenze negli anni. Intanto Romelu Lukaku è ancora considerato il favorito di Antonio Conte per rinforzare l'attacco napoletano. Il Napoli sta facendo tutto il possibile per accontentare il proprio allenatore e rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Allora, nazione partenopea, cosa ne pensi di questo possibile ingaggio? Desiderio 2 potrebbe essere un buon rinforzo per il nostro attacco? Lasciate le vostre opinioni nei commenti, vogliamo sapere cosa ne pensate di questa giovane promessa. Non dimenticate di mettere mi piace, iscrivervi al canale e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutte le novità che riguardano il nostro amato Napoli. Alla prossima! Forza Napoli sempre!